Musica Notta per sopravvivere e raggiungere il proprio ideale Un giorno, in mezzo alla giungla, dove si vive la solita grigia e crudele monotonia quotidiana E lui sparò, senza pietà, in mezzo a tutta quella gente, dipinta di terrore Una sirena, corri sprenato, la tua avventura ormai E' terminata qui Quella gente che ha visto te Che cosa dirà Che cosa dirà Riuniti insieme In apparenza felici Scambiando sogni proibiti Delusi da questa società E' la realtà Che ci circonda C'è un uomo che lo sa Ma mai ne parlerà Quella gente che ha visto te Che cosa dirà Il caso Che cosa dirà Che cosa dirà Il caso fece incontrare Biancaneve con il principe azzurro il quale colpito dal candore e dalla semplicità della ragazza pur legato ad un'altra donna sente di amarla. Grazie.